Ciao a tutti ragazzi, allora veniamo a noi, cercherò di essere abbastanza conciso in questo video, poi se la cosa vi interesserà, se volete saperne di più, sarete voi a chiedermelo e quindi magari poi potremo approfondire la questione. Allora, ho da poco fatto un video che ho pubblicato sui social, questo lo pubblicherò solo su Youtube, quindi quell'altro lo troverete anche su Instagram e Facebook, dove annuncio la chiusura estiva leggermente anticipata rispetto a quello che avevamo in realtà deciso con Federica, perché mi è arrivata la chiamata dal chirurgo e lunedì 3 agosto mi opererò. Questo diciamo è un video che va a concludere, no, perché bisognerà poi vedere come andrà e tutto quanto il seguito, però diciamo si va un po' a riunire a quel filone di video che riguardano il What I Eat In A Day e tutto quanto, ai vlog che riguardavano un po' il discorso della dieta, del mio percorso di dimagrimento. Non so se ricordate, molti lo ricorderanno, magari alcuni hanno cominciato a seguirmi, dopo io tempo fa intrapresi una dieta che mi portò ottimi risultati, ma poi purtroppo tutto è naufragato, come quasi sempre, no quasi sempre, come sempre, come tutti gli altri tentativi che ho provato. Molti di voi rimasero male, mi dissero però banana, perché non ci sei riuscito, non avevi persi tanti le ripresi, sembrava quasi come se fosse una cosa che io avessi fatto a voi, diciamo, più che a me stesso. Io cercare di spiegarvi già all'epoca che tutto ciò che voi vedevate in quei video era reale al cento per cento, non c'era niente di scritto o costruito, quindi quando le cose sono cominciate ad andare male, molti di voi forse probabilmente, dato anche gli ottimi risultati che avevo raggiunto, magari si aspettavano il lieto fine, ma purtroppo non era un film. E non era, ripeto, niente di costruito o di scritto, reale al cento per cento e quindi è andata male. Come ripeto, sono andati male tutti i tentativi che ho fatto e pensate quanti ne possa aver fatti, visto che sono obeso dall'età di sei anni, mi ritrovo ad averne 35. Ne ho fatti tantissimi di tentativi, ragazzi, palestra, dieta, tutti i tipi di trattamenti possibili, immaginabili. Non sto qui a elencarveli perché, ripeto, voglio cercare di fare un video abbastanza conciso. Ho deciso quindi di fare l'intervento un po' di tempo fa, mi sono messo in lista, tutto quanto, e ora mi hanno chiamato. Andrò a fare la sleeve gastrectomy, che bene o male è quella che adesso fanno, diciamo, quasi tutti. Consiste nella rimozione di tre quarti all'incirca dello stomaco, quindi alla fine ti ritroverai con uno stomaco molto piccolo che si riempie subito e quindi mangerai di meno, eccetera, eccetera. È un intervento abbastanza semplice, negli uomini ha ottimi risultati più rispetto alle donne, non comporta niente dal punto di vista di malassorbimento, eccetera, eccetera. Quindi sono molto fiducioso. Per quale motivo non ve l'ho detto prima? Non l'ho detto prima perché, innanzitutto per una questione di tempo, perché fare video mi è diventato veramente difficile. Adesso sto facendo un attimo qui a casa, come vede, accroccato perché non ho più il computer perché si è rotto. Quindi sto col telefono a appoggiarlo sopra tu scatola delle scarpe, quindi un po' accroccato perché non ho il tempo per via del negozio di farli. E poi anche perché pensavo di non essere, tra virgolette, compreso. Alcune persone, a cui l'ho detto nella vita reale, quindi al di fuori della rete, hanno subito cominciato, ma banà, ma lascia perdere, ma chi trova a fare, ma perché si interventa, devo levare lo stomaco, non si torna indietro, lascia perdere, ma fai la dieta, la palestra, ci si riesce. Voglio fare una piccola aggiunta, premessa, diciamo. L'intervento di chirurgia bariatrica non è l'unico modo per dimagrire, perfetto? Non è l'unica soluzione. Ce ne sono tantissime altre. Quella migliore è indubbiamente un'alimentazione corretta e un movimento con palestra, sport, eccetera, eccetera. Però io ragazzi, c'ho 35 anni, ci ho provato in tutti i modi da quando ce l'ho 6. Sono stanco e soprattutto sto male perché non sto, rischio di ruinarmi definitivamente la salute a 35 anni, dopo 30 quasi di obesità. Quindi ragazzi, non ho più il tempo, non ho più la forza di provare a fare ulteriori tentativi. Quindi per me la chirurgia bariatrica è l'unica soluzione. Ripeto, non è l'unica soluzione per tutti. Quindi non voglio fare alcuna pubblicità alla chirurgia bariatrica, ma vi sto semplicemente raccontando quello che mi sta succedendo. Quindi anche non ve l'ho detto proprio perché pensavo che molti non mi avrebbero compreso, che avrebbero cominciato a dirmi però banana, ma chi ti fa fama, lascia perdere perché è qua, perché è là, perché è su, perché è giù. Ho deciso di non dirlo. Quindi vi ripeto, il 3 agosto mi opererò. L'intervento prevede pochi giorni, 3-4 giorni massimo di ricovero post-operatorio in ospedale. Poi si torna a casa, i primi giorni, le prime settimane sono un po' difficili, soprattutto i primi 15 giorni perché c'è da riabituarsi totalmente anche nel bere l'acqua, è una cosa più semplice del mondo. C'è un po' da riabituarsi e starci un po' dietro, quindi però diciamo non è un intervento complicatissimo. Ripeto, voglio fare questo video corto solamente per informarvi di questa cosa. Con il negozio, quindi come ho pubblicato un video nel... Questo lo pubblicherò solo su YouTube, mentre invece il video dove annuncio la chiusura del negozio l'ho pubblicato anche su Instagram e Facebook. Dicevo, chiuderemo dal 3, quindi il 2 agosto domenica sarà l'ultimo giorno lavorativo e quindi anticipiamo la chiusura di una decina di giorni perché avremmo voluto chiudere il 14 agosto. E quindi ci ritroveremo poi a settembre. Il video ragazzi finisce qua, quello che avevo da dirvi ve l'ho detto e se volete ne possiamo parlare ulteriormente, anche nelle storie, come volete voi. Se vi interessa l'argomento, fate domande, commentate, scrivetemi in privato, se volete darmi incoraggiamenti o anche delle critiche che magari non siete d'accordo, sono sempre ben accette, sui commenti, in privato scrivetemi. Se volete che approfondisca l'argomento anche, diciamo, post-operatorio perché ormai lunedì mi operano, quindi non c'è neanche tanto più tutto questo tempo per fare video e cavoli vari, però se volete che io in futuro continui a parlare di questo argomento fatemi sapere, così vi farò qualche altro video. Per il resto ragazzi, ho detto tutto quello che dovevo dirvi, ci si vede, ciao a tutti! Grazie!